Grazie onorevole Fautilli, innanzitutto la ringrazio per il suo ottimismo perché lei aggancia le polemiche di questi giorni esclusivamente al ballottaggio, dunque dovrebbero concludersi domenico lunedì, suppongo che così non sarà, comunque io apprezzo il suo ottimismo e spero che abbia ragione lei ovviamente. Il punto a me pare di sostanza, noi stiamo facendo un'importantissima battaglia a livello europeo per ottenere la relocation e poter consentire a tutti i paesi d'Europa di accogliere migranti che arrivano in Italia secondo un principio di equa distribuzione. Abbiamo già ottenuto nel corso dell'agenda Juncker alcuni risultati, li riteniamo un primo passo non soddisfacenti e continueremo a batterci perché non ci sia un numero fisso che in tutti i casi nella prima fase sia più alto di 24.000 in un biennio e che ci sia la possibilità di instaurare un meccanismo fisso di redistribuzione in modo tale che alcuni paesi del nord dell'Europa e del nord est dell'Europa abbiano un carico di migranti equo rispetto alla loro popolazione come ce l'hanno paesi del sud dell'Europa quali l'Italia. Mentre noi facciamo questa battaglia in Italia si apre un problema che è esattamente analogo a quello che noi stiamo ponendo in Europa, cioè abbiamo regioni che per la loro geografia, mi riferisco in primo luogo alla Sicilia, non possono spostarsi da lì e dunque nei porti di Agusta, Portempedocle, Pozzallo, in tanti porti della Sicilia sbarcano avendo ciò un peso sulla popolazione locale tanti migranti. Oltre a questo peso si pretende che alcune regioni del sud, Puglia, Calabria, Sicilia in primo luogo abbiano su di loro il peso totale della immigrazione, un grandissimo peso della immigrazione nel nostro paese, incoerentemente rispetto alla battaglia che stiamo facendo in Europa. Questo ci sembra ingiusto e ci sembra anche contraddire la linea di indirizzo che fin dal marzo del 2011 con un accordo tra il Ministro Maroni e i Presidenti delle Regioni si raggiunse portò ad un'equa distribuzione. Anche allora si generarono conflitti, anche allora ci furono delle resistenze dei governatori, anche allora ci furono delle resistenze di alcuni sindaci, ma poi prevalse il senso di responsabilità istituzionale. Noi non possiamo accettare che una questione mondiale diventi una questione meridionale. Non possiamo accettare che tutto questo avvenga per un canone di ingiustizia che è insopportabile.